buonasera e bentrovati con l'edizione serale di caro tg vediamo insieme i titoli principali di giornata tragico incidente stradale a savignano 25enne finisce in auto nel fiume rubicone e perde la vita era la figlia del candidato sindaco a verucchio lite in hotel degenera albergatore riccionese aggredito da un turista ora si trova ricoverata al bufalini dopo una rovinosa caduta il coordinamento nazionale mare libero guidato dal riminese viaggini ha steso ombrellone e sciugamani in uno stabilimento di ostia un atto per ribadire che le spiagge devono essere liberate stasera ultima puntata stagionale della nostra trasmissione sportiva calcio punto basket ospite in studio il difensore del rimini lepri e il coach di rbr dell'agnello in apertura di questa edizione la cronaca tragedia ieri sera a savignano dove intorno alle 19.30 si è verificato in via rubicone destra un grave incidente stradale nel quale ha perso la vita michela lazaretti 25enne verucchiese per cause ancora da accertare la giovane ha perso il controllo della sua matiz chevrolet che ha urtato un terrapieno ed è finita nel greto del fiume rubicone una coetanea san marinese che viaggiava con lei è riuscita a mettersi in salvo per michela invece non c'è stato nulla da fare la vittima era la figlia del candidato a sindaco di verucchio sostenuto dalla lista 3v giancarlo lazaretti il destino ci ha voluto dividere ha scritto il padre sui social sarai sempre la parte migliore della mia vita unanime il cordoglio della politica rinviato a martedì 4 giugno l'incontro pubblico a villa verucchio con i candidati sindaco che si sarebbe dovuto svolgere domani ancora la cronaca un forte diverbio sui cui motivi stanno cercando di fare luce i carabinieri di riccione è finito con un albergatore della perla verde ricoverato all'ospedale bufalini di cesena e un cliente denunciato per lesioni un'ambulanza del 118 una pattuglia dei carabinieri sono intervenute nel primo pomeriggio di ieri in un quattro stelle di viale gramsci a riccione dove era stata segnalata un'aggressione a seguito di una cesalite tra il gestore un riccionese di 74 anni e un cliente della struttura un bresciano di 40 secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma tra i due c'erano stati nei giorni precedenti già diversi batti vecchi pare per futili motivi ieri quando si sono incrociati nella hall è iniziata una nuova discussione dei toni piuttosto accesi il cliente che pratica arti marziali avrebbe perso le staffe dando una forte spinta all'albergatore che una volta rovinato a terra ha sbattuto violentemente la testa per precauzione è stato trasportato all'ospedale di cesena non è però in pericolo di vita il turista bresciano è stato denunciato a piede libero e dopo l'aggressione ha lasciato il quattro stelle per contrastare il fenomeno della prostituzione il comune di rimini ha emanato una nuova ordinanza predisposta dal comando della polizia locale è firmata dal sindaco sade golvald l'ordinanza è in vigore da oggi vediamo resterà in vigore fino al 15 gennaio la nuova ordinanza anti prostituzione del comune di rimini confermati l'impianto dei provvedimenti degli anni passati e le aree dove il fenomeno è più frequente la zona dei lungomari quella della stazione via varisco e strade interne la zona tra san giuliano e le celle via tolemaide e tutta la statale adriatica potrà essere punito con una sanzione amministrativa fino a 500 euro 400 se pagati entro 60 giorni chi pone in essere comportamenti diretti a offrire prestazioni sessuali a pagamento l'ordinanza prevede inoltre il divieto di richiesta di informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti o di concordare l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento le manovre pericolose o di intralcio alla circolazione saranno punite ai sensi del codice stradale con una sanzione amministrativa di 42 euro 56 se accertata tra le 22 e le 7 di mattina l'agenzia delle entrate il comando provinciale della guardia di finanza di rimini saranno informati di qualunque fatto ritenuto rilevante ai fini fiscali i controlli saranno frequenti assicura l'amministrazione comunale per non abbassare la guardia a fronte di una carenza legislativa per poter contrastare efficacemente il fenomeno ora voltiamo pagina il coordinamento nazionale mare libero in prima linea per rendere pubbliche le spiagge dopo la decadenza delle concessioni balneari non fa sconti sabato scorso sul litorale lattiale il coordinamento guidato dal riminese biaggini ha ribadito sul campo le proprie ragioni mare libero sulle spiagge romane oggi siamo venuti a stendere i nostri asciugamani a piantare i nostri ombrelloni tra le file di tutti gli ombrelloni lasciati ancora legittimamente dai concessionari scaduti per dimostrare che le concessioni in italia sono quasi tutte scadute e che quindi i bagnanti se vengono a stendere il proprio asciugamano e il proprio ombrellone possono farlo liberamente e nessuno può chiedergli il pagamento di servizi o di allontanarsi le spiagge sono state liberate e chi vuole usufruirne non può essere allontanato il coordinamento nazionale mare libero ha ribadito fisicamente il concetto occupando un'area della spiaggia di ostia un atto pacifico su una concessione che atti alla mano risulta scaduta e salvaguardando la fascia di libero transito lo racconti il riminese roberto biaggini presidente nazionale del conamal che è stata l'unica persona identificata dai due funzionari della questura intervenuti su chiamata dei gestori dello stabilimento nessuna conseguenza o contestazione ai bagnanti fai da te a biaggini i funzionari hanno semplicemente consigliato pur non trattandosi di protesta o manifestazione di comunicare alla questura altre iniziative del genere visto che si trattava comunque della presenza di una quarantina di persone nei giorni scorsi il consiglio di stato ha in qualche modo salvato la stagione dei balneari chiarendo che anche se le concessioni sono decadute il 31 dicembre 2023 i concessionari possono proseguire l'attività visto che i comuni non sono nelle condizioni di affidare a terzi il compendio demaniale mare libero però ribadisce che nessuno può impedire a chiunque il diritto di prendere il sole o fare un bagno le spiagge ribadisce biaggini sono beni pubblici liberamente gratuitamente fruibili da tutti airbag difettosi molti proprietari delle citroen c3 hanno ricevuto un invito a riparare le proprie vetture tra loro anche diversi riminesi che si sono rivolti alle associazioni consumatori i proprietari dei modelli di citroen c3 prodotte dall'aprile 2009 al febbraio 2017 e di s3 prodotte dal giugno 2009 al maggio 2019 hanno ricevuto una raccomandata che sollecita di sospendere immediatamente la guida del veicolo perché l'airbag di tipo tacata è difettoso e potrebbe esserci pericolo di gravi lesioni o morte le sostanze chimiche contenute negli airbag tacata potrebbero infatti deteriorarsi nel tempo esponendo il guidatore il passeggero al rischio di rottura del dispositivo di gonfiaggio dell'airbag con una forza eccessiva in caso di incidente l'invito è a rivolgersi al più presto a un riparatore autorizzato ma qui segnalano le associazioni feder consumatori e adconsum arrivano i problemi mancanza dei ricambi necessari l'impossibilità di avere una data certa per la messa in sicurezza delle auto e il non funzionamento delle procedure per ottenere ristori attraverso voucher o la fornitura di auto sostitutive feder consumatori ha chiesto un incontro urgente alle aziende riservandosi interventi in altre sedi a tutela dei cittadini coinvolti. Ora allo sport sono state incoronate a Riccione le quattro campionesse italiane allievi gold di ginnastica artistica per la prima volta le finali nazionali si sono svolte al play hall. Vediamo. Maria Lourdes Buonocore, Giada Bertaggia, Teresa Fimiani e Martina Bossola si sono laureate campionesse d'Italia rispettivamente nelle categorie allieve 1, 2, 3 e 4 nelle finali nazionali individuali allieve gold disputatesi per la prima volta a Riccione al play hall Massimo Pironi con l'organizzazione a cura della ginnastica Riccione Academy. È stato un grande evento per la prima volta nella storia la ginnastica Riccione Academy ha avuto l'opportunità di organizzare questa finale del campionato nazionale individuale gold allieve. Ricordo che le gold allieve arrivavano da tutta Italia ed erano le migliori 400 ginnaste da tutta Italia che fanno livello altissimo di ginnastica artistica femminile quindi abbiamo avuto il top, il fiorfiore di ginnaste. Basti pensare che queste ginnaste avevano 8, 9, 10, 11 e 12 anni. Tra queste sicuramente un domani ci saranno quelle che andranno in squadra nazionale perché sono quelle che in questo momento fanno più alto livello ed è stato un orgoglio, un onore ospitarle al play hall, ospitarle nella nostra città di Riccione e soprattutto avere l'onore di aver organizzato come società questo evento. Quindi un grazie alla Federazione di Ginnastica d'Italia, al Comune di Riccione che ha patrocinato questo evento, ma sicuramente un grazie incredibile a tutti i miei collaboratori della Ginnastica Riccione perché in tre giorni oltre 50 persone hanno dato una mano per far sì che andasse avanti questo evento, c'è un numero veramente incredibile, però grande unione di intenti, grande voglia, grande passione, grande determinazione che è quella che è la base di questa società che è cresciuta in questi anni. In gara anche due atlete della Ginnastica Riccione Academy, Margherita Cantelli, 27esima nella categoria allieve 2 e Miruna Scopette, 29esima nella categoria allieve 3. Siamo molto contenti su 120 ginnaste migliori d'Italia, avere due ginnaste che si qualificano tra le migliori 25 e 30 d'Italia credo che sia quello che ci aspettavamo tutti, quindi il percorso sta crescendo molto bene. E questa sera su Icaro TV la 35esima e ultima puntata stagionale di Calcio.Basket, il nostro approfondimento sportivo del lunedì in diretta dalle 19.35 alle 23.00. tra gli ospiti in studio, il coach di RBR Sandro Dell'Agnello, il difensore del Rimini Thomas Lepri, l'ex calciatore di Serie A Francesco Lunardini, il capitano della Victor San Marino Enrico Sabba e il presidente del Tropical coreano Tiziano Marzi. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma Icaro Play dove potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.